Un altro gioco che avevo scaricato e che mi sono sempre poi perso nel ricominciare a giocare eccetera Cards of Terra Cards of Terra l'ho scaricato perché i commenti sullo store dicevano essere sia un gioco di carte online però di avere tematiche particolari e modalità differenti rispetto a tanti altri giochi di carte e quindi non sapendo bene che cosa volesse dire ho detto vabbè lo scarico e poi provo a farmi diciamo un paio di episodi vedendo un po' come va il discorso non tanto sul fatto che vi piaccia o meno visto che siete neanche 60 ma sul fatto del come lo trovo io chiaramente quindi non ci sta nessuna introduzione io direi di fare di cliccare a caso no vabbè più che altro di vedere un po' che cosa mi dice campagna allora c'è tutto lo spieghino solo immagini però sono immagini ben ok non penso di spiegare niente insomma la tipa dovremmo essere noi credo ok deve far male potere del cristallo di luna che cacchio è ah ok convinci il goblin ad attaccare lo scheletro clicca così e si distrugge una vicenda l'orso a 4 ah in italiano bello e il fatto che sia in italiano è positivo l'orso a 4 di forza quindi io posso fare così e poi posso fare così scopro tutte le carte durate per avanzare vabbè ah immobile non si può trascinare io uso i ok perde uno forza ogni turno no aspetta ma i rossi li posso trascinare ah devo tanto rimuovere le carte posso trascinare anche gli orsi ah ok che cos'è sta cosa qua vola da un punto all'altro ed è semplicemente fastidiosa ho notato allora ah ok quindi facciamo così eh vabbè ok quindi per vincere bisogna scoprire le carte dorate ottenono ogni forza ah questo è il contrario ottiene uno di forza ogni turno vabbè questa è la sorte di tutorial ok infligge un danno a un nemico casuale ogni turno quindi faccio così ah ogni turno non mi pare che ti stia infliggendo alcun danno però ehm ogni turno consuma un'energia ogni turno consuma un'energia allora vediamo 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 le carte di tutorial le carte di tutorial le carte di tutorial non si combattono io vorrei usare un approccio diretto ah ok ok allora devo devo quindi anche a questo punto i goblin sono miei alleati ho sbagliato allora prima dovevo uccidere loro eh ho capito lo rimetto qua no qui no allora l'ho persa l'ho persa lo ricomincio allora ah questa è un po' più complicata più che usare i rossi dobbiamo usare i blu credo allora ti perrompi i capi allora ogni turno questo infligge un danno casuale a un nemico quindi se io faccio così poi lui potrebbe esatto hai fatto la cosa che più speravo che tu facessi poi faccio così vabbè ti pare che non facevi quello che volevo io ottimo poi facciamo così e si annula una vicenda poi facciamo così e no e no vabbè uguale tanto ok ok avanti livello 1 l'abbiamo completato no livello 1 l'abbiamo fatto ah no qual è il tutorial credo infetto i danni da parte di zombie rendono le carte infette e nere ah quindi se io faccio così lui diventa un orso zombie che carina sta cosa ah questi si potenziano ogni turno si ti pare che doveva rompermi le scatole la signorina qua e vabbè allora questo attacca casualmente un tizio qualsiasi perciò io potrei fare così così che lui attacca lui per forza poi faccio così poi uno qua questo si potenzia ogni turno però mi sa che l'ho toppata aspettate un attimo no sbagliato ma no ce l'ho fatta per culo non era non pensavo di averla persa livello 2 cosa ah questi sono ah pure questi una volta scoperti fanno praticamente infine il giudano è un nemico casual una volta quando viene girata è in faccia in su quindi una volta che la girano in faccia in su finisce il loro compito perciò e no e facciamo così questo lo facciamo potenziare perfetto non ha bra l'importante è che non attaccate l'alberello perché se no ok allora qua diventa un pochino più fastidio la posso spostare la fatina si la posso spostare allora intanto attacchiamo con l'orso lui 5 perfetto poi attacchiamo con la fatina e il goblin ok devo spostare lui quindi spostiamo lui spostiamo lui ottimo ah come energia ah perché ho 8 turni per riuscire ah quindi devo spostare quanto prima questi allora allora tanto vale che io faccia così tanto se sono tutti contro tutti ok ok poi faccio così faccio così no che palle anche questa l'ho persa di nuovo vabbè ah perfetto sì ma un solo turno non faccio nulla energia energia esaurita che vuol dire allora c'è qualcosa che mi sta sfuggendo ho 8 mosse ogni mossa è un turno in meno e devo scoprire 3 carte quindi in qualche modo ce la devo fare ok che ore sono tra poco devo staccare allora 8 mosse lo zombie rende infette queste qua e il loro compito l'abbiamo fatto quindi se però io faccio allora facciamo così a sto punto 1 e 2 ho scoperto le altre carte perfetto ora se io tolgo dalle palpebre queste aspetta alla fine a qua penso di aver fatto bene e ho 6 carte e però non ha senso perché allora se io ho 6 carte no 6 turni e ci sono 8 carte lì come faccio a rimuoverne 8 carte con 6 mosse devo fare una concatenazione di qualche tipo allora rispetto a quelle che io ho qua quello ogni 2 quindi se io faccio questo su questo se ne tolgono 2 in una botta sola stessa cosa devo fare così sì perfetto ora vediamo eh perfetto l'importante è smuovere le prendere le carte oro no quindi ho vinto oh perfetto andiamo avanti livello 3 anche qui ho 8 mosse e lei si mette già su di lui perché siamo testa di cabolo ok 8 mosse allora devo scoprire sempre loro quindi faccio così perfetto ora se lui lo lascia scoperto il blu l'arcele che ogni turno fa un danno a tutti quanti teoricamente allora potrei fare così no speravo in un po' più di fortuna va bene speravo in un po' più di fortuna però va bene poi faccio così no speravo in un po' più di fortuna ottimo poi eh qua io però devo per forza muovere lui giusto bene bene poi vediamo se ho ho quattro mosse sì potevi darmi una mano però pure tu ok io ho due mosse bene e poi l'ultima mossa perfetto vabbè è un tipo cioè è un gioco di carte però non è un gioco di carte collezionabile è tipo abbina le cose è tutto un con rompicapo praticamente io rompicapi non sono molto bravo queste sono state anche cose abbastanza semplici però i ratti che so i ratti crea su di sé un altro ratto quando viene girata faccia in su crea su di sé un altro ratto su di sé ah mazza e palle allora lasciare lo lasciare là perché è un'ottima carta mi può aiutare quindi farei così e si toglie là bra un po' meno bra allora ammazzerei il grizzly poi farei fuori due carte in una botta sola no che palle bravo e te pare allora facciamo così no facciamo così ok ah no ce l'ho fatta perfetto avanti dai cerchiamo di arrivare alla fase finale il re dei ratti c'ho paura rara boss immune a magia abilità dopo aver subito danni chiama due ratti che culo vabbè allora mi viene di fare veramente così ah casuali arrivano i ratti urca come stracazzo lo ammazzo sto tizio e qui finì l'avventura di senza identità perché io poi queste cose veramente allora forse non è stata la scelta migliore forse dovevo distruggermi ma gli zombie allora vediamo una volta subiti tre danni quindi se io faccio così non si fanno danno eeeh no allora facciamo ma che cazzarola ne so facciamo così no eh potevi fare una cosa un po' meglio rispetto a questa vabbè bello l'alberello quindi in teoria ok allora vediamo se ho capito bene io faccio così intanto ammazzo la fatina dei mur poi faccio così e distruggo il ratto e prendo lo spirito faccio così lui si potenzia nuovamente poi faccio questo faccio questo e poi teoricamente facendo questo ho vinto ok la natura ti viene sempre in aiuto capitolo 2 ah abbiamo fatto ah perché era il boss quello la capsula è sparita e che mi vuole dire questa cosa qua che devo fare totte capitoli finché non tolgo tutti i rottami vabbè il gioco è questo io prossima volta magari faccio il problema a fare il capitolo 2 io mi fermo qua perché sennò viene un video troppo lungo non so neanche se riesco a farlo il capitolo 2